Arriviamo adesso ad una sconfitta a Edimburgo, non è stata una partita facile, sappiamo che loro erano una squadra forte, che piaceva giocare tanto con la palla, penso che anche lì nell'analisi che abbiamo fatto noi qua all'interno dobbiamo puntare più sui dettagli, essere più precisi su tutte le cose che facciamo in ogni ruolo. Ovviamente abbiamo visto che abbiamo lasciato tanto la palla loro, quindi abbiamo riuscito a giocare tanto, a fare il loro gioco e quello ci ha messo un po' in difficoltà. Dopo ovviamente nel secondo tempo, dopo aver parlato con gli allenatori, abbiamo messo un po' a posto tutte le robe, non ce l'abbiamo fatta però quasi, abbiamo migliorato quello che hanno detto gli allenatori, quindi contenti per quella fine di partita. Un soffio perché è un punto, nonostante tutto c'eravate perché avete ribaltato come dicevi te la partita? Sì, sì, no, ovviamente, pure perché noi adesso vogliamo ovviamente sempre portare a casa i cinque punti, sempre che sia possibile, pensiamo che questa era una bella opportunità per portare i cinque punti. Sì, è stato alla fine un sapore un po' amaro perdere da un punto. Allora parliamo di te, intanto come stai? Rientri, sei rientrato, 40 minuti direi bene, no? Sì, 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 bene, sono contento, dopo un bel po' di mesi sono tornato, ho fatto un intervento a giù nella spalla e settimana scorsa ho fatto i miei primi 40 minuti però veramente mi sono sentito bene, comodo con la squadra, mi stavo allenando già da due mesi con loro quindi ero già, si può dire in contatto con i giocatori e mi hanno fatto sentire bene. L'altro anno è stata una stagione un po' particolare perché è bene fino ad un certo punto, poi la seconda parte non l'hai più giocata, non ti abbiamo più visto. Sì, sì, veramente, per fortuna la prima parte l'ho giocata abbastanza, la seconda ho iniziato ad avere un po' di fortuna, la spalla, il polso, diversi robe, ho giocato veramente poco, quindi quest'anno vediamo di far meglio e cercare di rimanere tutta la stagione in piede. A cominciare da sabato prossimo perché finalmente ritornate al Monigo dopo tre trasferte, che partita sarà perché è tra l'altro un avversario che ritrovi come l'anno scorso rientrando da un infortunio? Sì, sì, l'anno scorso mi è successo uguale, sappiamo che loro sono una squadra che piace tanto tanto giocare, giocano tanto, anche di palle recuperate, sono bravi, sono molto veloci, quindi dobbiamo stare attenti a questa parte offensiva di loro, tenere noi il possesso e stare pronti sempre a difendere. E ovviamente, come hai detto tu, dopo tanto tempo torniamo a Monigo, siamo molto contenti, molto felici perché ovviamente l'ambiente dentro lo stadio, a casa è sempre molto bello, quindi ci manca un po'. Facciamo un invito? Sì, ovviamente, vi aspettiamo tutti allo stadio, saremo là a lasciare tutto in campo, quindi vi aspettiamo a Monigo.